Vedere queste immagini fa male, per questo ho deciso di sostenere personalmente Medici Senza Frontiere, perché ognuno di noi può fare qualcosa. Da 50 anni Medici Senza Frontiere porta assistenza medica a chi ne ha bisogno, ovunque. Dona ora al 45522. Il mondo è ferito, ma noi possiamo curarlo. Grazie a tutti.